Buongiorno, buongiorno telespettatori di Prima di Tutto, benvenuti. Oggi è sabato 12 gennaio, anche questa mattina la lettura dei quotidiani in edicola, oggi sono diversi i titoli piuttosto impattanti di oggi, soprattutto le regionali e poi i sigilli alla discarica di Ate, la discarica di Santa Lucia, vedremo adesso infatti nei titoli dei quotidiani quali sono gli approfondimenti e le motivazioni di questa decisione. E nella seconda parte sarà con noi il dottore Elso Castelli, presidente del Comitato di Azione Popolare, faremo un po' il punto della battaglia per la sicurezza dell'acquifero del Gran Sasso. Quindi andiamo immediatamente a leggere il titolo di apertura del centro, il quotidiano d'Abruzzo che apre appunto con il sequestro della discarica di Atri, sarebbe stata ampliata più del consentito. Dieci indagati e tra questi Gerardini ancora nella fotonotizia nasce un'associazione contro il gioco d'azzardo, aiuterà le famiglie in un centro d'ascolto e questo accadrà a Teramo. E poi esattamente sotto la testata il ministro verrà alla commemorazione, stiamo parlando del ministro degli interni Matteo Salvini che annuncia anche 10 milioni ai parenti dei morti di Rigopiano con un emendamento al decreto, mille proroghe. E ancora verso le regionali Gerosolimo ha deciso, si allea con Marsilio e quindi il dribbling praticamente dell'Udc per, vedremo anche la Lega che cosa, come si, quale sarà la posizione visto che aveva dato il veto. E però la decisione è questa, Gerosolimo si allea con Marsilio ma non si candiderà lui, lui di prima persona, lui e la moglie. E poi nelle cronache a Teramo, anziana truffata per 1.400 euro da finto corriere, il sindaco Gian Guido d'Alberto sul decreto sicurezza che viola la Costituzione e a Giulia Nova atti vandalici contro il furgone della Amicacci, veramente deplorevole questa vicenda. E ancora un'altra notizia, Sfera e Basta è indagato a pescare il cantante e accusato di istigazione all'uso di droga per un concerto di luglio. Ricordiamo anche che Sfera e Basta è anche il rapper del concerto di Ancona dove purtroppo è successa quella immane tragedia di ragazzi che sono rimasti incastrati nella folla, nell'uscita che è crollata. E dopo aver spruzzato dello spray al peperoncino in un ambiente così piccolo, ancora per lo sport, il calcio di Serie C, il Teramo e sulle tracce di Guidone e Chinellato. Bene, andiamo immediatamente ad approfondire, vediamo Abruzzo verso il voto, l'indagine, un abruzzese su tre non si fida dei politici a rivelarlo l'annuario statistico dell'Istat. Il 33,6% del campione ignora la politica, sono pochissime le donne, sindaco. E quindi c'è qui un bell'articolo di Angela Baglioni, degli abruzzesi e la politica, un rapporto difficile, quello delineato dall'Istat. E sui perché questo disinteresse totale, non totale, però insomma sicuramente consistente, c'è il 63,1% che risponde non mi interessa, il 7,1% non ha tempo, il 9,6% argomento complicato, insomma, è piuttosto evidente. Alle elezioni politiche del 2018 non ha votato il 24,5% degli aventi diritto, praticamente un elettore su quattro. E ora la domanda è cosa accadrà alle regionali, che insomma oggi c'è il termine ultimo per deporre, per presentare le liste, è il 10 febbraio, quindi meno di un mese si vota. Le richieste agli aspiranti presidenti e gli urbanisti d'Abruzzo incalzano i candidati in lizza. Ancora doccia fredda, a piccoli tribunali salta l'incontro, il ministro della giustizia ha annullato il summit per scongiurarne la chiusura. E questo è diciamo una bruttissima notizia. Abruzzo verso il voto i candidati, Gero Solimo ha deciso, va con Marsilio, lui non corre ma piazza i suoi con l'UDC. Con Legnini otto liste e Di Matteo deve rivedere il simbolo, rischia il ricorso di Masci. Insomma, situazione piuttosto complicata per queste elezioni regionali. E in tribunale corte d'appello entro questa mattina appunto le liste, il Movimento 5 Stelle brucia a tutti gli avversari. Oggi a mezzogiorno in punto il termine per la presentazione delle liste negli uffici circoscrizionali costituiti presso i tribunali di capoluoghi di provincia di ogni collegio elettorale, approfondimento del centro. E ancora andiamo a vedere gli altri titoli che riguardano il voto. Ecco, Rigo Piano che entra nelle elezioni. Salvini, 10 milioni alle vittime, il leader della Lega annuncia un maxi risarcimento ai parenti dei 29 morti. E vediamo qui il post sul social Facebook di Matteo Salvini che scrive Come promesso abbiamo fatto in una settimana quello che altri non hanno fatto in due anni. Un intervento di legge in favore dei familiari delle 29 vittime della tragedia e soprattutto 10 milioni di euro stanziati dal Ministero dell'Interno per aiutare chi ha perso tutto in quelle drammatiche ore. E il Movimento 5 Stelle che prontamente ribatte emendamento nostro. Così i senatori pentastellati e il sottosegretario Vacca rivendicano l'iniziativa e quindi non ci stanno a farsi sorpassare dalla Lega di Salvini. Chi come noi è abruzzese ancora negli occhi e nel cuore la tragedia dell'hotel Rigo Piano. E proprio per questo i pentastellati hanno presentato un emendamento al decreto semplificazioni che stanzia appunto risorse con cui si vogliono aiutare i familiari delle vittime. Ancora andiamo avanti e leggiamo gli altri titoli quali sono quelli che ci riguardano più da vicino e andiamo in Abruzzo e il tempo di far recuperare il centro. L'occupazione sportelli allo stremo più personale nei centri per l'impiego all'allarme della CGL alla vigilia dell'entrata in vigore del reddito di cittadinanza stabilizzare i precari o sarà il caos? Carmine Ranieri che dice un tavolo tecnico regionale per gestire la situazione dalle risorse alle nuove competenze di cui gli uffici si faranno carico. Sono i segretari della CGL e della funzione pubblica Abruzzo che esprimono una grande forte preoccupazione per la situazione per i centri per l'impiego. E ancora il dossier lavorano in nero 84 mila abruzzesi per la CGA di Mestre metà del reddito di cittadinanza andrà a chi non ha diritto e qui vediamo una foto di un corteo di sindacati per protestare contro le aziende che impiegano mano d'opera in nero sottraendo risorse alle radio e mettendo ovviamente in difficoltà gli imprenditori che invece rispettano le regole. Andiamo avanti, andiamo a leggere l'apertura di Teramo come abbiamo visto si tratta della nuova inchiesta sulla discarica di Santa Lucia sigilli al sito, discarica sequestrate, 10 indagati, il pubblico ministero dice ampliamento di forme dal progetto per scaricare più tonnellate del consentito e ovviamente sfuma anche l'ampliamento che era stato finanziato l'anno scorso l'ampliamento BIS tramite il finanziamento del Consiglio della Regione e quindi una decisione che aveva sollevato forti protesti di cittadini e residenti e quella era una decisione sancita sempre nell'ambito dell'adeguamento del piano regionale di gestione integrata dei rifiuti anche alla luce della riserva naturale dei Calanchi e la richiesta riguardava un ampliamento di 360 mila metri cubi e quindi in azione i carabinieri del Noe l'impianto ospitava materiali provenienti da Roma e l'altra notizia piuttosto pesante sul ritiro della Soget sulla gestione appunto Prati la provincia cerca un altro gestore di Bonaventura riaprirò gli impianti, rabbia e sconforto tra gli operatori pensiamo di chiudere il giorno dopo la rinuncia della Siget a gestire gli impianti scilistici di Pratitivo il presidente della provincia Diego di Bonaventura ribadisce che non ha intenzione di mollare e ha intenzione invece di aprire gli impianti sta incontrando gli operatori anche delle marche vedremo come si risolverà questa situazione piuttosto brutta per la nostra provincia Teramo, Dalberto, il decreto sicurezza viola anche la Costituzione il sindaco rincara la dose dopo la riunione con i colleghi a Lanci non ha solo difficoltà applicative ma nega i diritti umani e va valutato dalla consulta noi comunque intanto lo applicheremo e il decreto sicurezza non ha solo delle difficoltà applicative ma secondo sempre il sindaco anche problemi di legittimità costituzionale quindi se non verrà cambiato il comune chiederà una valutazione alla Corte Costituzionale Ancora la cronaca esame per la patente con truffa Senegalese si sostituisce all'amico nel test di teoria denunciato dalla Polstrada un giuliese tossico dipendente segnalato per aver contrappato il certificato medico dell'ASL tre sotto accusa per aver tentato di immatricolare una vettura con documenti e targhe false andiamo ancora a vedere gli altri titoli truffa un'anziana da un finto corriere paga 1400 euro per un pacco vuoto destinato al figlio fallisce un altro tentativo a Silvi badante mette in fuga tre ladre e poi arrestato il falso maresciallo dei 24 colpi pensionato 67enne fermato a Napoli ha agito anche a Roseto, Martinsicuro, Pineto e Alba Adriatica ancora l'ondata di maltempo l'emergenza neve è cessata ora lo spauracchio e il ghiaccio qualche polemica per la chiusura delle scuole in città ma il provvedimento è apparso giustificato dagli accumuli di oltre 20 cm nelle frazioni alte soddisfatti il comune e la provincia ancora il processo il medico fantasma e il PM chiede la condanna dell'ex primario e ancora c'è un ripetitore rotto la RAI non si vede e proteste a Montorio anche attraverso l'associazione dei consumatori per risolvere il problema della mancata ricezione dei canali RAI a Montorio ancora lotta alle dipendenze nasce un centro l'associazione che aiuterà le vittime del gioco Resaglio darà sostegno ai giocatori patologici e alle loro famiglie in collaborazione con Uniti contro la droga e vediamo il problema della ludopatia che è impattante la provincia di Teramo ha sicuramente una maglia nera per il numero di vittime del gioco d'azzardo che dilapitano veramente le risorse finanziarie della famiglia e sono tanti i risvolti negativi della ludopatia soprattutto nelle famiglie e anche i subliminali messaggi che vengono mandati anche con i vari ticket insomma e quant'altro veramente dei riverberi pesanti quelli della ludopatia ancora spiagge nidi di fratino in netta diminuzione presentato il report 2018 sull'uccello protetto previsti più controlli da parte della guardia costiera andiamo ancora a parlare di regionali candidati locali da Nuntis lo sviluppo qui si è fermato il sindaco di Corropoli che corre per Forza Italia la vallata è stata penalizzata negli ultimi 5 anni va rilanciata ancora a Santomero la chiusura della ex discarica che è prevista entro febbraio e poi un'altra notizia di Tortoreto stadio Pierantozzi tempi stretti per riaprirlo a settembre il comune deve avviare subito i lavori anche sulle torri faro e poi l'altra retrivelazione prevista davanti al tronto due associazioni contro il Pozzo del Leni in mare stazione ornitologica abruzzese e ambiente salute nel Piceno hanno inviato nuove osservazioni dopo quelle della scorsa estate nel procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto Pozzo Donata 4 dir del Leni e si tratta della perforazione di un nuovo Pozzo dalla piattaforma Emidio collocata in Adriatico di fronte alla foce del Tordino a 27 km che sono circa 14,6 miglia marine ancora a Giulianova arriva un nuovo anestesista ma la situazione resta difficile ospedale il medico dovrebbe prendere servizio a febbraio ripristinando l'organico del 2018 anche con 5 specialisti però rimane problematico coprire il servizio nelle tre sale operatorie ancora preso di mira da ladri vandali il furgone della società Amicacci rotto un finestrino del mezzo utilizzato alla scuola di basket in carrozzina rubato uno zainetto questa veramente è una bruttissima notizia ieri mattina quando gli addetti al trasferimento del sudalizio sportivo giuliese si sono avvicinati al mezzo hanno rilevato con grande sorpresa del vetro anteriore frantumato lo vediamo qui nella foto rotto dai vandali adesso diciamo che si è al lavoro per capire chi ha potuto fare un gesto così veramente increscioso e poi l'impianto di via cupa AC Bando per il distributore IP l'automobile club di Teramo lo affida in gestione per 6 anni ancora altri titoli che riguardano Roseto Nugna e Sespropri per allargare il ponte di Fosso Canale il consigliere provinciale risponde all'appello del sindaco il cantiere del porticiolo potrà partire in primavera e ancora Pavone e Roseto fermi da due anni urbanistica e project financing a Silvi si farà nell'area di Pianace il nuovo ecocentro del comune la zona è quella dove attualmente vengono parcheggiati i mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti l'assessore Valeriani per realizzare la struttura è disponibile un finanziamento di 450 mila euro l'apertura di Pescara spera e basta indagato istigazione all'uso di droga il giovane cantante al centro della polemica dopo la strage in discoteca denunciato da due senatori di Forza Etaria per il concerto del 12 luglio all'ex Cofa ecco chi lo ha fatto finire sotto inchiesta sono Lucio Malanne e Massimo Mallegni sul centro del 13 luglio 2018 si leggeva ragazzini in delirio per sfera diseducativo ma che mito i politici contestano i contenuti dei test che si riferiscono all'uso e allo spaccio di sostanze stupefacenti e le immagini pubblicate sul profilo Instagram il trap boy sfere bassa sul palco di fronte alla ruota panoramica il 12 luglio scorso lo vediamo qui ritratto proprio durante il concerto dell'estate scorsa ancora l'inchiesta bis della tragedia del resort rigopiano sette avvisi per frode processuali processuale coinvolti l'ex prefetto provolo e due ex vice interrogatori fissati al 17 gennaio esattamente il giorno prima dell'anniversario della data della tragedia e ancora il sindaco di penne che dice il governo rimborsi le spese al mio comune ancora il caso Feniello i PM vittime di intimidazioni l'associazione nazionale magistrati Abruzzo replica alle polemiche e probabilmente risvolti in questi giorni apparsa sulla stampanazione la notizia che il padre di una delle vittime del tragico crollo è stato condannato in sede penale al pagamento di una multa per aver portato i fiori sul luogo sottoposto a sequestro quindi violando i sigilli e quindi ci sono le repliche ho cercato di salvare mio fratello folle i funerali del giovane caduto al balcone a Capodanno a Città Sant'Angelo un'altra terribile tragedia e purtroppo è morto dopo nove giorni di agonia e ancora andiamo a vedere lo stalking la violenza a 75 anni molesta la giovane vicina la donna ha dovuto cambiare casa con marito e figlia ma lui ha continuato a perseguitarla condannato a due anni e poi a Pianella l'operario denunciato di dietro di avvicinamento serpente morto a forma di cuore sull'auto della ex ecco che cosa cosa si arriva a fare ecco qua in queste circostanze vediamo proprio il serpente morto che aveva piazzato sull'auto della ex ancora l'apertura di Montesilvano tragedia sfiorata anziana vaga in pigiama sotto la neve salvata da Montesilvano Colle arrivata fino a Santa Filomena in stato confuzionale l'ha fermata un passante famiglia rintracciata grazie ai poliziotti dell'ospedale ancora l'apertura di chieti social e bufale il caso sindaco denuncia insulti falsi a nome mio su facebook spuntano offese del primo cittadino agli studenti in risposta al maltempo e alla nevicata ma non sono vere quindi il messaggio è apparso su un profilo falso del sindaco per tutti dove si legge che avrebbe scritto attraverso un profilo falso ovviamente per tutti i ragazzi che mi stanno scrivendo in corrisponenza privata attualmente non ci sono le condizioni per mettere un'ordinanza per la chiusura delle sue non ha bottate eccetera veramente proprio delle cose incredibili strade percorribili oggi riaprono le scuole riprendono regolarmente le lezioni di primio c'è troppo allarmismo per le previsioni meteo è ancora San Vito tragedia sull'Adriatica pescarese muore nello schianto con un bus pensionato sbanda con l'auto e finisce contro un mezzo della tua tornava in città la moglie ha assistito all'incidente vediamo veramente la tragica la tragica immagine che mostra questa Fiat 500 vecchio modello proprio schiantarsi contro l'auto il pullman della tua ancora l'apertura dell'Aquila settore in crisi nessun investimento turismo per l'Aquila zero promozione qua gli anni di Federalberghi e l'Aglia non c'è un piano per lanciare il territorio occorre almeno un evento nazionale al mese il caso tappa del giro atleti e staff fuori città è ancora aleatoria l'ipotesi appunto della tappa del giro d'Italia all'Aquila ancora lotta ai tumori nuova scoperta abruzzese nasce un farmaco sperimentale frutto della ricerca congiunta dell'Università dell'Aquila e di Chieti ancora andiamo a vedere immediatamente le notizie che riguardano lo sport più da vicino è il tempo di far ricaricare il centro qualche secondo qualche attimo di pazienza e andiamo a vedere le notizie del centro per lo sport facciamo così mandiamo qualche minuto di pubblicità e rientriamo con lo sport agli altri quotidiani messaggero e città a tra poco eccoci qui bentornati leggiamo adesso il titolo i titoli dello sport del centro serie C biancorossi casting per l'attacco il teramo punta guidone e chinellato dopo il rifiuto di Costantino il DS Federico sonda gli attaccanti del Padova per accontentare Maurizzi per rinforzare il reparto offensivo si pensa anche a Magrassi del Ravenna Ranieri piace a Virtus Centella e Rimini ma il club spera di trattenerlo la Sicula Leonzio vuole Altobelli e ancora oggi sarà diramato l'elenco ufficiale delle gare saltate diversi rinvii per il maltempo lancio Villa 2015 si giocherà mercoledì siamo nei dilettanti in serie D gli anticipi di oggi Gian Paolo lancia subito Samb il tecnico dell'Avezzano schiera la punta senegalese contro il Monte Giorgio e si cerca un centro campista ancora al Valle Anzucca arriva il campo basso Franca Villa recuperato Caffiero e poi campo impraticabile per la neve Matelica Pineto rinviata al 23 gennaio ancora il rugby di serie A domani Nero Verdi a Roma contro la Capitolina infarcita di Aquilani sfida speciale per Cococetta Gianni Orsini e Castellani in B assalto alla vetta del Paganica contro il Villa Panfili e ancora Barbaro Orsogni Attivoli per stupire ancora pallavolo la schiacciatrice della capolista MB2 suona la carica la Coged in casa Giulianova fuori e il volley festa regionale il 27 gennaio andiamo a leggere le altre notizie riguardo il basket di serie A2 domani contro Mantova Sherrod Roseto faremo meglio il centro americano io e la squadra siamo in netta crescita nel girone di ritorno lo dimostreremo in serie B Chieti e Giulianova avanti tutta Cohen siamo in progresso Quaglia vice di Ciocca con Fabriano sarà dura e andiamo adesso a leggere i titoli principali del messaggero d'Abruzzo che apre con la vicenda l'inchiesta bis di Rigopiano 10 milioni l'annuncio di Salvini notificati sette avvisi di garanzia c'è l'ex prefetto ancora la notizia dei prati niente stagione sugli sci e scoppia la bufera e ancora verso il voto oggi ultima chance perché a mezzogiorno è il termine per la presentazione delle liste ancora va a ritirare la 500 Vintage e si schianta contro un bus abbiamo visto le foto terribili dell'incidente e purtroppo è morto il gestore di un bed and breakfast di Pescara appunto la 500 Vintage effettivamente è così ma anche contro l'impatto con l'autobus della tua niente ha potuto Abruzzo alle urne patto in extremis Gero Solimo va con Marsilio anche Srour nel progetto politico che raggruppa Udc Dc e Idea 5 Stelle la Marcozzi noleggia 28 macchine per girare la regione e ancora passaggi depositate le prime liste si chiude alle 12 di oggi dagli amministratori al PD pronta la falange di Legnini il complesso cartello dell'ex numero 2 del CSM verrà perfezionato questa mattina a Pescara appunto c'è l'ipotesi di pistaggio sul rigopiano consegnati 7 avvisi con l'aggravante della distruzione della prova ancora vigili altro rinvio sul regolamento lo scontro in consiglio solo 15 emendamenti affrontati nella seduta di ieri se ne riparla lunedì intanto incombe il bilancio andiamo ancora a leggere le aperture l'apertura di Pescara il cuore sull'auto era un serpente morto gesto folle e disperato di uno stalker e poi ancora andiamo a leggere gli altri titoli task force per la tutela del fratino guardia costiera WWF Torre del Cerano uniti a difesa della nitificazione dell'uccello migratore sul nostro litorale l'apertura dell'Aquila 5G ASL nega l'autorizzazione ora la sperimentazione rischia tra le antenne di pagliare negato il via libera a quella per la tecnologia di ultima generazione se il caso dovesse estendersi anche ad altri siti l'intero piano potrebbe essere messo in forza i residenti della zona ovest continuano intanto la battaglia contro l'inquinamento elettromagnetico ancora Palazzo del Benzinaio partiti i lavori sarà necessario nei prossimi giorni chiudere la strada per la rimozione dei sei serbatoi ancora l'Avezano sul Monasismo una domenica di prevenzione domani la sirena e le campane annunceranno la grande prova si dovranno raggiungere i punti di raccolta 30 luoghi nei quali occorrerà concentrarsi c'è l'aiuto anche dei volontari l'apertura di Chieti muli di studiate il caso di insulti del finta sindaco su Facebook l'abbiamo visto già qualche tipo di post del profilo falso poca neve oggi le scuole sono aperte un post fake scatena l'ira degli studenti clima da attenzione spasmodica al meteo non lo possiamo accettare ed ecco qua il fake veramente post apparso su Facebook su un falso profilo terribile veramente brutto quello che può succedere sui social network è ancora la bruttissima notizia tragedia con la 500 contro il bus e muore a 74 anni l'incidente fatale per Paolo Proscia a San Vito Chietino ancora l'apertura di Teramo Prati di Tivo di Bonaventura di Bonaventura che dice qualcuno ora gioca sporco il sospetto si vuole far perdere valore agli impianti per rilevarli a poco prezzo sugli sci si andrà lo stesso c'è pronta una cordata di nuovi imprenditori la falsa partenza della stagione sulla neve ha fatto infuriare il presidente della provincia e il messaggero qui appunto approfondisce il caso dei Prati di Tivo e ancora vedremo cosa accadrà veramente una bruttissima notizia vicenda che ovviamente crea un demerito per la nostra per la montagna della provincia di Teramo a Giulia Nova Roseto Valvibrata noi dal lungomare non ci muoviamo parla uno dei più noti rappresentanti degli ambulanti del mercato del giovedì sostenendo che è assurdo il trasferimento su via Ursini la fila su un lato raggiungerebbe l'hotel Sea Park e nessuno arriverebbe fin lassù per pirocchi motivi di sicurezza la notizia degli atti vandalici sul furgone della Amicacci la cronaca che si sostituiva l'amico per l'esame di guida per lo sport andiamo a vedere il Fuzz all'acqua e sapone contro il Latina per scacciare la crisi il basket di Serie A2 persone in forte dubbio l'americano colpito da influenza anche Rodríguez e Nicolich no al top mercato per ora trattative ferme ancora Teramo Montalto o Geio per l'attacco dopo il rifiuto di Costantino e la partenza di Bacio Terracino e Piccioni reparto in sofferenza il primo viene dalla Cremonese l'altro dal Venezia come terza soluzione l'ex per Scara Cappelluzzo la squadra ha annullato il test contro i Bebi Pescara era l'amichevole in programma allo stadio Bonolis per oggi pomeriggio contro la primavera del Pescara e invece solo questa mattina per l'allenamento e poi domani il giorno di riposo la ripresa è fissata per lunedì in Serie D Pineto rinvio per neve si recupera il 23 gennaio quindi domenica niente partite andiamo a vedere la città l'apertura dedicata ai prati di Tivo ma in chiave ottimistica quella del quotidiano della città una speranza scolana per i prati per la gestione della seggiovia si fa avanti un imprenditore con interessi in Trentino e un direttore tecnico e poi la fotonotizia dedicata ai sigilli alla discarica di Atri Santa Lucia e ancora andiamo a vedere subito le notizie interne anche qui Rigopiano 10 milioni per i parenti delle vittime e poi gli altri titoli allerta rientrata giusto tenere chiuse le scuole per la neve le polemiche dopo la decisione del sindaco di mantenere chiuse le scuole ieri decisione presa sulla base dei pareri dei tecnici anche perché la situazione nelle frazioni era piuttosto critica spunta una bretella la rotatoria ipogea Villa Pavone ha approvato una variante richiesta da Rete Ferroviaria Italia per collegare anche il viale del cimitero di Cartecchio dovrebbe smaltire un bel po' di traffico ancora crediti si tratta oltranza tra Team e Comune congelata la richiesta d'arbitrato si è insediato il tavolo tecnico per affrontare i conti in sospeso e poi finalmente sistemato l'ingresso al parco il quartiere Ponte San Ferdinando ringrazia l'assessore di Banoaventura per l'intervento inaspettato che bello bello infatti effettivamente ben ripulito com'era e com'è via San Ferdinando nel Tondo Luigi Cappelluti l'artista pittore che abita lì sicuramente ha segnalato la situazione indecorosa dell'accesso al parco in pieno degrado che invece è stata prontamente sistemata dall'assessore Valdo di Banoaventura ancora Ruderi la proprietà mette in guardia che il comune e la società alla bufera chiede una rettifica smentita alla città e intanto manda un messaggio all'amministrazione e stiamo parlando della proprietà del famigerato immobile di Largo Paris contestata che contesta i tecnici del comune dichiarazioni del sindaco Gianguido Dalbetto la ricostruzione avvenuta proprio sul giornale La Città ancora andiamo a vedere prepararsi al futuro al Pascal Comiforti gli indirizzi turismo relazioni internazionali servizi informatici aziendali sempre più specialistici tante belle offerte formative per le superiori della città di Teramo provincia la salvezza dei prati potrebbe arrivare da Ascoli interessamento per la gestione degli impianti di risalita da parte di un importante imprenditore turistico l'investitore dell'imprenditore si sa che ha interessi sull'Adriatico e in Trentino dove gestisce strutture alberghiere e che guarderebbe alla stazione invernale teramana come prima pietra per altri eventuali investimenti e speriamo ancora chef protagonista in tv con Manuel Di Stefano vince tutto il territorio sconfitta i punti nella trasmissione di Borghese ma ottima promozione dell'Abruzzo e dei suoi prodotti ha fatto le scripelle in busta e le ha messe in un piatto di castelli tra i vari gesti veramente di promozione del territorio e lo ringraziamo per questo ancora nuove regole per le sagre tortoretane più spazio a disposizione degli organizzatori e il numero massimo per gli eventi andiamo a vedere l'atto vandalico contro la Micacci De Prolevole veramente l'appello nei giorni scorsi è stato diffuso un appello per reperire i fondi per partecipare alla coppa campione e ancora la lettura di recchiuti siamo a Roseto il centrodestra Rosetano è da rifondare il rammarico se ci fosse stata la volontà il centrodestra Rosetano avrebbe espresso un candidato eletto ambiente sequestrato la discarica di Santa Lucia dieci indagati nel fascicolo aperto alla procura sul conferimento rifiuti nell'invaso di Atri e la cultura i miserabili gran classico sul parco per la stagione di Prosa di Teramo il capolavoro di Hugo con Franco Branciaroli bello un appuntamento da non perdere giornali e fotografie love story infinita da uno scatto bondano di D'Annunzio al padrino di Puzzo 180 anni fa il primo click ufficiale e vediamo i titoli velocemente dello sport diavolo quattro stelle un grande sogno Geio sul taccuino della dirigenza e nomi per il corpo davanti anche Caniguidone e Cappelluzzo i profili che interessano sfumato Costantino per il Teramo ci sono molte strade da poter perseguire l'indicazione di Maurizzi è quella di avere un attaccante di grande struttura per fare il salto di qualità e vedremo che cosa succederà sfida tra Bomber il notare squadre Canati rosso-blu anticipano l'impegno di campionato prima dell'infrasettimanale di mercoledì Minella sfida Pera e Sivilla la Lisciani Teramo attende le Secchieti al Pala Acqua Viva per il Futsal bene tutto anche per la città qualche minuto di pubblicità e torniamo con il dottor Elso Castelli faremo un po' il punto della situazione nuovi incontri e ampliamento anche del Comitato di Azione Popolare fuori regione e insomma sentiremo quali sono le evoluzioni di questa battaglia a tra poco eccoci qui bentornati salutiamo il nostro ospite il dottor Elso Castelli buongiorno dottore buongiorno bentornato bentornato al prima di tutto e nuovamente insomma siamo qui intanto con un'attrezzatura una cosa semplice semplice un piccolo esperimento veloce veloce per far capire una cosa ai telespettatori intanto brevemente raccontiamo e ricostruiamo un po' gli ultimi step della battaglia del Comitato di Azione Popolare che il primo gennaio diciamo l'ultimo evento il primo gennaio è stato il primo dell'anno primo gennaio 2019 in piazza Martiri a Teramo proprio per continuare a raccogliere le firme si poi abbiamo dovuto abbandonare la piazza per motivi di sicurezza perché c'era il concerto c'era il concerto siamo andati via siamo andati via senza problemi ma essere presenti lì non per il concerto ma per testimoniare per andare avanti con la nostra battaglia è stato per noi estremamente importante di nuovo abbiamo cominciato l'anno in maniera discreta presenti sul territorio e nello stesso tempo senza dare fastidio senza estremismi in maniera seria pacata replicando le nostre ragioni spiegando alla gente informando quello che è il nostro lavoro infatti c'è stato un incontro a Castel Castagna a ridosso di fine anno poi due appuntamenti importanti che abbiamo già avuto uno al santuario di San Gabriele con il rettore padre Natale Panetta che conosco da tantissimi anni una persona squisita sensibile nonché nativa dei luoghi nativa di Cerchiara cosa le ha detto cosa ha detto padre Panetta ci siamo salutati abbiamo parlato delle problematiche ha ricevuto molto bene il messaggio ed è un buon ho fatto informazione anche io ho spiegato qual'era ho lasciato i comunicati in stampa ho spiegato qual'era la situazione perché lui non sapeva non sapeva tutto sapeva però poi non sono sceso nei dettagli di quanto sapesse però è importante tra persone che si conoscono e che si stivano soprattutto quello che rappresenta lo sappiamo il santuario di San Gabriele sta proprio ai piedi della montagna quindi storicamente è un ex convento francescano quindi è stato importante rivedersi e ho spiegato tutte le mie ragioni ho apprezzato sa con il cuore e con la testa quando il comitato va avanti soprattutto conoscendo la mia persona sta bene poi un altro appuntamento di estrema importanza è stato quello con la sua eccellenza l'arcivesco Monsignor Lorenzo Leuzzi che mi ha ricevuto in un clima estremamente cordiale affettuoso ascoltato in maniera attenta le ragioni del comitato conosce personalmente i responsabili conosce molte persone è una persona in grado di acquisire informazioni penso che ci sarà anche il suo impegno anche a tutela di tutte le persone rappresenta un pochettino un trade union fra la politica fra il potere e il popolo quindi rappresenta la gente quindi si occupa di questioni di chiesa ma è un profondo conoscitore quindi per me è stata una tappa di estrema importanza e quindi ha avuto rassicurazione anche dal vescovo insomma che dialogo c'è stato del dialogo e dell'interessamento del vescovo non è che io posso dire a sua eccellenza cosa deve fare io ho esposto le nostre perplessità i nostri dubbi le nostre certezze per alcune cose tra l'altro nelle visite diciamo di fine anno per gli auguri di Natale è andato anche al Ruzzo alla sede del Ruzzo tra le varie oltre che all'ospedale è un posto importante molto molto importante noi lo sai quando ha cuore il Ruzzo tant'è che a fine gennaio è in programma il 25 all'archivio di Stato in programma la presentazione della ristampa di quel libro che io ho portato in trasmissione ho effettuato la ristampa lo presenteremo ho parlato con l'assessore Ponziano col comune sia con il responsabile gli ultimi dettagli e siamo pronti anche per quello e quindi anche lì insomma diciamo ulteriori passi avanti oltre al fatto di essere diciamo andato anche fuori provincia oltre diciamo ha cambiato ambito come mai questa scelta? veramente sono stato inizialmente fuori regione all'inizio di dicembre perché ho dei consulenti quindi con loro abbiamo un pochettino messo a punto le iniziative soprattutto loro acquisiscono informazioni sono in grado oggi come oggi con i mezzi che ci sono per me è difficoltoso io faccio il medico sto tutti i giorni sul territorio quindi non è che posso dedicare già così dedico tanto tempo quindi con dei consulenti esperti per vari settori riesco ad acquisire informazioni loro sono capaci il lavoro che loro fanno con 5 minuti per me ci vogliono giorni e quindi con loro mi sono rapportato un pochettino ho approfittato anche per uscire con la famiglia mi sono rapportato con loro abbiamo fatto il punto e quindi ha combinato insomma un po' tutto un po' tutto ottimizzato poi sarà un incontro a Pescara con i medici di famiglia un altro incontro a Montorio in previsione per il 26 di gennaio in mezzo ci sarà qualcosa altro un incontro ad Ater quindi diciamo che il comitato si muove quotidianamente e in più ho le persone che raccolgono firme i piccoli sottocomitati qua sono i sostenitori che raccolgono firme quindi andiamo avanti su questa strada che numero si è raggiunto? diciamo 2005 ma ripeto si va avanti si va avanti molto molto velocemente anche perché adesso stiamo facendo un lavoro di scannerizzazione e archiviazione delle firme per tenerci un pochettino ben collegati tra di noi sarà il caso di rapportarsi ci è da lavorare veramente tanto allora il 10 febbraio si vota nessuno le ha chiesto di candidarsi ha avuto qualche proposta in merito oppure è stato così no ha avuto più contatti ma io ripeto non sono interessato alla politica non sono interessato ma non perché la politica non sia interessante la ritengo importantissimo perché la politica decide mi è stato chiesto da più parti però ripeto ho detto a qualcuno più amico che magari che mi ha sondato da altro anche perché te lo chiedono anche per sapere se sei interessato spesso io non sono interessato alle candidature non lo ero interessato non sono stato per il comune non lo sono per la regione quindi il comitato non potrebbe andare a fare danno al comitato vi è una battaglia da portare avanti una battaglia importante e su quello andiamo avanti io mi occupo di salute e in questo momento ritengo di fare prevenzione allora intanto ecco vediamo che è arrivato un messaggio tra tutte le voci che si sono raccolte intorno all'acquifero del Gran Sasso come vergini fedeli quella del dottor Castelli sento come la più sincera perché dissonante che non cerca obolo direbbero i greci o fornisce prebenda direbbero i latini per ingraziarsi i potenti Gino allora il fatto che insomma ha detto ha detto ha detto tanto ha detto tanto probabilmente ha detto tanto forse questa diciamo questa capacità di percepire il comitato come autentico può essere anche interpretata dall'altro lato come una diciamo un comitato che parla che un po' agisce un po' di impatto di impulso di pancia così come si potrebbe dire ritiene giusto questo allora ognuno di noi ha una credibilità ha una storia personale la mia è nota io pur non essendo originario di qui sono originario di Cellino però delle persone è importante sapere la storia è importante sapere di cosa vivono perché logicamente io sono un medico il mio stipendio lo paga la ASL con una convenzione e quello è il mio reddito quindi è estremamente visibile e chiaro per quanto riguarda l'impegno non tendo a candidature quindi questo l'abbiamo già detto adesso se qualcuno si trova in altre situazioni la gente lo può tranquillamente vedere di certo io ricordo due grandissime persone vi parlo di Borsellino e Falcone che dicevano andate dietro i soldi e capirete quindi vedere dove i percorsi del denaro è importante e quello dirà la persona personalmente il comitato vive delle mie risorse collaboratori lo sanno quindi è il mio denaro non è tantissimo ma potrei farci altre cose sicuramente è il mio tempo potrei fare altre cose prima viene il mio lavoro perché non posso non fare una visita non posso non dedicare attenzione ai pazienti e occuparmi di altro quindi prima faccio il mio lavoro e nei ritagli di tempo nel tempo libero d'altro prima di gennaio potrevo starmi a fare una vacanza altra parte oppure ascoltarmi il concerto perché praticamente stando prima lì a fare la manifestazione e dopodiché sono dovuto uscire portare via le cose al rientro non ho potuto neanche ascoltare il concerto ma non mi è dispiaciuto nel senso non perché non volesse ascoltare il concerto perché il motivo per cui non ho ascoltato il concerto è di estrema importanza l'acqua è un bene primario fondamentale la pancia io sono un medico una persona di scienza io non agisco di pancia né devo impilzare la mia pancia quello che ho è più che sufficiente non tendo ad accumulare denaro o altro quello a cui tendo è avere l'acqua pulita io agisco di testa e di cuore se questo può essere un pochettino un fatto negativo io lascio agli altri accetto anche qualunque tipo di giudizio quando ho incontrato le persone tutte le persone ci sono state le persone che mi hanno criticato ma io non mi sono mai permesso ha criticato hanno detto sai io dottore ho un parente che lavora lì ho una conoscenza ma io ricapisco siamo esseri umani ognuno di noi è evidente che magari se io avevo un mio fratello che lavorava all'interno del laboratorio di fisica nucleare mi sarei trovato in grossa difficoltà personalmente capito però io non prendo crocchette non mangio palle avvelenato quindi ringraziando il Signore ho un lavoro e le mie capacità ho un lavoro che mi permette di vivere onestamente quindi faccio quello mi accontento e una parte del mio denaro lo dedico anche per altre cose allora proprio una settimana fa è stata nostra ospite il presidente di Ruzzo l'avvocato Alessia Cognitti e si parlava appunto dell'evoluzione dell'inchiesta insomma l'accusa che incombe sul Ruzzo sarebbe quella di negligenza da lei spiegata in questa maniera molto semplice l'avvocato Cognitti ha detto se siamo su una macchina ad esempio noi siamo dietro e il conducente che sarebbero appunto i laboratori fa qualcosa commette un reato noi che stavamo dietro e non abbiamo controllato diciamo siamo diciamo in concorso praticamente con questo atteggiamento noi avremmo dovuto controllare diciamo e questa è l'accusa di negligenza che incombe sul Ruzzo dice ma in realtà poi la posizione verrà spiegata durante il processo e non ha voluto più anticipare ha preferito non anticipare poi l'evoluzione appunto del processo il Ruzzo insomma anche per sua stessa ammissione ha detto che starebbe più tranquilla se i laboratori lì non ci fossero e ha ribadito tutta l'attenzione del Ruzzo nel controllo della sicurezza e della potabilità della nostra acqua dell'acqua che noi beviamo ha anche spiegato tutta l'attenzione che Ruzzo ci sta mettendo l'avvocato Cognitti il presidente è un avvocato quindi tecnicamente risponde io in questo non voglio entrare per quanto riguarda lei c'è adesso il nuovo CDA c'era nel precedente quindi viene una continuità tra Forlini Cognitti queste persone sono sempre le stesse francamente obiettivamente sono sempre le stesse ma queste sono logiche di nomine in cui io non entro perché a me non riguarda a me che sia Forlini che sia Cognitti o che sia un'altra persona io non sono in grado di dire se queste persone sono adeguate o meno e non è il mio compito io guardo i fatti i fatti abbiamo avuto problematiche importantissime con l'acqua io dissento completamente da chi dice di mettere in sicurezza il laboratorio lo ripeto ancora una volta il laboratorio non può essere messo in sicurezza ve lo dico lentamente e in maniera chiara il laboratorio non può essere messo in sicurezza per due motivi fondamentali che sono di ordine tecnico il primo si trova su una faglia sismica capace di eventi fino a 7,5 della scala della scala Ritter quindi sono eventi di una portata enorme secondo motivo le sostanze tossiche che adopera per gli esperimenti il laboratorio sono sostanze che non possono stare a contatto con la falda acquifera che si trova lì a contatto stretto l'acqua il bene primario che va tutelato prima di ogni altra cosa perché rappresenta la vita in senso stretto ed è strettamente collegata alla salute delle persone questo è il secondo motivo terzo le sostanze tossiche i benzenici e quant'altro una volta irradiati trattati dagli esperimenti per norma di legge devono essere considerate sostanze radioattive non possono essere sversate perché lo sversamento di queste sostanze negli scarichi non segue le norme le sostanze radioattive devono avere una norma precisa una volta utilizzate non possono essere sversate nell'ambiente né con lavaggio né con altre procedure terzo le sostanze radioattive sorgenti radioattive ne sono state introdotte diverse decine negli anni e col broxino se ne voleva portare un'altra non possono stare a contatto con l'acqua non possono stare a contatto con l'acqua normalmente figuriamoci se possono stare a contatto con l'acquifero del Gran Sasso che è la sorgente idrica dell'intero Abruzzo un ambiente carsico in cui i movimenti delle acque sono tali e un mescolamento completo determina la compromissione di tutto l'acquifero che costa di milioni e milioni di metri cubi d'acqua quando si arriva a rilevare queste sostanze nell'acqua potabile abbiamo sversato non un litro non due litri ma quantità impressionanti questo un pochettino dopodiché andiamo nell'ambiente parco allora io ripeto l'ente parco si occupava del fringuello del parco che deve tornare un altro si occupa del lupo in ambiente parco quel laboratorio non ci può stare quel laboratorio è stato avviato è stato creato costruito in quell'area che già questa è una cosa scellerata di per sé ma se avesse fatto ricerca pura quello per cui è nato calcoli scientifici studio della materia oscura senza fare sperimentazioni non ci sarebbero state grosse problematiche anche se sta vicino all'esorgente dell'acqua con una struttura è sempre un problema però non avremmo avuto problematiche importanti di questo genere ecco qua allora leggiamo un altro messaggio buongiorno buongiorno a volte quando prendo l'acqua per la pasta la butto e la riprendo più volte c'è una sorta di leggera schiuma piatta bianca quasi oleosa in odore non saprei meglio dire alla fine la si usa nelle bottiglie dicono esserci troppe microplastiche ma allora come facciamo allora dobbiamo tornare io adesso tecnicamente non riesco a rispondere a queste persone dovrei fare affidamento sui consulenti per vedere le schiume non voglio dire stupidaggine in maniera più assoluta io sono un medico e mi occupo di salute l'acqua è stata compromessa ma soprattutto è a rischio gli argomenti da trattare sono tantissimi siccome lei mi ha parlato del ruzzo le voglio dire che via un autista e via il conducente il ruzzo è titolare di una concessione quindi il ruzzo ha in mano l'acqua il bene del maniale che è bene di tutti che è un bene che non è che si può vendere o quant'altro la fornisce la fornisce la capta e la fornisce allora quando si parla di sicurezza di controlli io vorrei ricordare e mi dispiace doverlo ricordare ma siccome è pubblico allora che la sonda SIS2 questi sono atti ufficiali e è stata messa gli atti acquisiti dai 9 i 9 acquisiti in procura la sonda SIS2 senza comunicarle senza curarsi la sostituzione è stata messa in manutenzione e fino a poco tempo fa era ancora mancante questa sonda e lasciando il lato destro dello sbarramento lo sbarramento destro senza controllo solo nel 2018 è stato creato uno strumento di allarme precoce alternativo quindi diciamo che è una sonda che controllava l'acqua in generale sempre si parla dagli stralci i sistemi di allarme sono stati gestiti in maniera negligente lasciando che questi sistemi di allarme di cui si parla tanto che sono in automatici vi sono dei campionamenti dei rilievi dell'acqua quando queste apparecchiature rilevano che nell'acqua c'è un problema mandano dei segnali a mezzo telefono e quindi creano l'allarme leggo dagli atti dei nove dalla pubblicità dei giornali anche il giornale che ho pubblicato che queste schede erano scadute e queste non è che dipendono dal laboratorio queste dipendono dal ruto quindi questi sistemi di allarme di cui si parla che erano tanto perfetti tanto perfetti non mi sembrano e comincio a darmi a pensare che forse il fatto che il laboratorio in alcune campionature avesse rilevato delle sostanze la ASLA avesse rilevato le sostanze e il ruzzo no forse perché la sonda e lo sbarramento di destra era completamente malfunzionante perché le simbe erano scadute forse si spiega perché questi allarmi non arrivavano ripeto ci sarà un processo sì sì ma dico no questo è tanto per rispondere ai dubbi che ho riguardo ai sistemi di allarme che adesso saranno bene poi sversare dice l'acqua non la beviamo quindi qui non è l'autista qui è il trasportato se così tra parensi però per quanto riguarda adesso dice l'acqua viene messa a scarico ma mettere a scarico l'acqua l'acqua arriva nell'ambiente allora io mi meraviglio anche che chi si occupa di ambiente non tenga conto di queste cose fondamentali l'acqua messa a scarico va nel fiume va nel fiume dove va va nel fiume il fiume da lì ritorna nell'ambiente quindi ce la mangiamo un'altra volta non solo quella dei rubri ce la mangiamo quindi dopodiché ecco perché l'esperimento parliamo di scarico lo scarico del laboratorio quindi l'acqua messa a scarico lo scarico del laboratorio è certificato all'esperimento marrone del 2003 successivo allo sversamento di pseudocumene in cui il mavone diventò bianco e si parla di mezzo quintale di pseudocumene in realtà per far diventare un fiume bianco per lungo tempo ci vuole qualcosa di più di mezzo quintale secondo me di tre secchi di pseudocumene ce ne vuole una quantità enorme ed è in contatto quindi che succede che dallo scarico del laboratorio riva nell'acquifero lo esperimento marrone lo dimostro io adesso ho portato un piccolo esperimentino vediamo che cos'è che cos'è tutta questa cosa abbiamo simulato questo cilindro rappresenta un pochettino la montagna del Gran Sasso all'interno della montagna del Gran Sasso abbiamo un contenitore che diciamo che questo è l'acquifero noi in questo acquifero facciamo finta che questo bicchiere con dell'acqua sia il laboratorio che questo sia che questo sia il laboratorio il laboratorio con il suo scarico allora e quindi il laboratorio ha uno scarico che va questo scarico l'esperimento marrone dimostra ha dimostrato è un esperimento validato all'Istituto Superiore di Sanità ha dimostrato che questo scarico è in diretto contatto con l'acquifero ed ecco qui la simulazione che succede che dallo scarico che va anche all'esterno il colorante in questo caso un normale inchiostro il colorante si diffonde nella bacina e si diffonde nella bacina e va nell'acquifero in quantità più o meno grandi quindi questo è quello che è successo in occasione di contaminazione dell'acqua potabile adesso andare oltre poi andiamo sulle sonde sbaramento di destra tecnicamente non so dove si trova una sonda dove sono le compionature però è evidente che se succede questo se succede questo è evidente se non fosse ben diciamo se non fosse ben impermeabilizzato ma l'impermeabilizzazione non è possibile perché? perché lo scarico il bicchiere era integro no no il bicchiere no c'è un buco ah c'è un buco appunto perché il contatto no 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 il bicchiere è bucato un fatto di forellini per simulare i punti di contatto tra lo scarico del laboratorio e l'acquifero del gran sasso quindi è evidente che lo scarico del laboratorio anche se lo porta all'esterno e portare all'esterno delle sostanze tossiche quelle che adopero una volta che loro si ha lo sversamento portare all'esterno fa sì che all'esterno andiamo nel fiume e portiamo le sostanze tossiche nel fiume ma qui in questo caso nell'acquifero che è all'interno dell'intero sistema dell'acqua dell'abruzzo praticamente queste sostanze ci sono noi cambiando cambiando un tipo di colorante per farvi vedere che cosa succede adesso vedrete delle altre sostanze ci sono due o tre buchetti piccolini non sono neanche li ho fatti con un aga ecco qua si vede anche in questo caso si continua lo sversamento e quindi questa è andata nei rubinetti allora che succede certamente se lì il laboratorio faceva quello che doveva fare all'origine queste cose non sarebbero successe dopodiché certamente se le sonde funzionavano se le sonde funzionavano se i sistemi d'allarme funzionavano magari uno si accorgeva però sono sempre cose che vengono fatte dopo cioè prima c'è lo sversamento dopodiché devi pescare che la sonda capta deve arrivare l'allarme devi interrompere la fornitura poi non è che chiudi l'acqua è andata nei circuiti quindi è un massacro totale e questo ecco perché io da medico nel nostro territorio abbiamo un incremento di tumori enorme le sostanze adoperate nel laboratorio sono sostanze per gli esperimenti sono sostanze tossiche e sono risultate cancerogene nel laboratorio uno dice nell'uomo no ma parliamo di derivati del petrolio non è che possiamo andare a dare alle persone da bere la nafta per vedere se gli viene un tumore non è che possiamo andare a dare i trimetilbenzenici da bere e vediamo se a una persona gli succede qualcosa se viste in un animale di laboratorio colpisce lo stomaco colpiscono i reni e vie urinarie dal 2016 al 2017 il stomaco più 30% reni e vie urinarie più 24% poi il cloroformio che è risultato si sono ufficiali dell'Agenzia Sanitaria regionale il cloroformio che è stato trovato 101 volte superiore alla norma alla sorgente il cloroformio è il freon per raffreddamento quindi queste sostanze il cloroformio determina tra le altre cose tumori della pelle si è visto sempre gli animali tumori ma mare quindi io mi comincio a dare anche altre spiegazioni uno può dire non c'è la prova provata che il laboratorio sversi queste sostanze sia successo per il laboratorio guardi io non è che uno sto lì dentro io faccio un'analisi dei fatti non abbiamo nessuna attività che utilizza alla sorgente queste sostanze il laboratorio ce le ha ce le ha in quantità sono stati trovati gli sversamenti non è che possono risalire dai fiumi e tornare dentro l'acqua va in uscita e quindi chiaramente l'origine la sappiamo ma in ogni caso quel laboratorio non può stare in quel posto in alcuni in una ctu pubblicata anche sui giornali quindi dei tecnici hanno detto che viene all'interno del laboratorio una galleria fatiscente hanno riferito anche di imbarazzante presenza del laboratorio all'interno dell'acquifero del Gran Sasso io ripeto qui siamo in una situazione del terzo mondo non è che io critico il laboratorio sono persone di scienza non medico perché devo criticare il laboratorio in sé per sé la ricerca va fatta in posti adeguati io ricordo sempre però che gli stessi diciamo tutti gli stessi lavori le stesse ricerche esperimenti del laboratorio hanno comunque delle certificazioni basta andare a vedere proprio sul sito dei laboratori delle certificazioni che partono bisogna comunque dare un equilibrio a quello che viene detto c'è un'indagine in corso quindi un processo ancora da fare sono sicuramente delle posizioni che devono essere c'è la salute della gente non è una cosa assolutamente io mai ho detto è quella in discussione è che comunque ci sono delle affermazioni che possono essere piuttosto pesanti il laboratorio non contesto la scienza non contesto la scienza il laboratorio agisce nella collocazione allora agisco nella collocazione allora noi facciamo adesso sentivo per trasmissione anche dire facciamo cominciamo a togliere sostanze ma non è che cominciamo che ne togliamo un bicchiere alla volta facciamo un programma facciamo un tavolo facciamo cosa facciamo che nominiamo nominiamo delle persone la battaglia per sua natura è netta è una posizione ma non è che è netta perché io sono estremista non è netta per quello assolutamente è netta perché io ragiono di cervello ragiono di scienza allora che diciamo caro laboratorio sai tu tieni sostanze tossiche lì dentro non potresti tenerle parliamo le facciamo un tavolo adesso vengo lì dentro il laboratorio di me io sono una zanzara non gli importa nulla cioè non è che sente a me io ripeto facciamo un tavolo per che cosa? per dare dare da mangiare a qualcuno dare un obolo di incarico a che serve? non serve a niente il laboratorio non può stare in quel posto ma non perché la scienza non debba essere scienza la buona scienza è buona scienza il laboratorio deve trovare un'altra collocazione oppure fare quello per cui è nato vediamo se sono arrivati altri messaggi se c'è qualcosa no niente va bene allora sì quindi certo sicuramente bisogna stare diciamo bisogna prendere sicuramente una posizione ma le posizioni vanno anche motivate insomma sì sì ma io non è che io ripeto mi faccio mi faccio meraviglia si possono creare veramente degli allarmismi sicuramente c'è stato un problema di comunicazione ecco qua leggiamo la buongiorno ma solo adesso ve ne siete accorti sono 30 anni che l'acqua è non inquinata è tossica non è meglio dire di non bere l'acqua il laboratorio non chiuderà mai troppi soldi in ballo il laboratorio non chiuderà mai troppi soldi in ballo e per certi parassiti non gli importa niente insomma è ovvio che c'è una rabbia una rabbia l'acqua non è una questione che l'acqua si può non bere io bevo l'acqua del ruzzo non è e lo do è stata a rischio io ho detto la bevo fino a prova contraria ho scoperto che ho bevuto dell'acqua che non dovevo bere che mi sono esposto so che siamo esposti tutti ed è una cosa grave e non è che vado a fare io non faccio processi sappiate una cosa non è il laboratorio non chiuderà la volontà del popolo passa sopra ogni altra cosa ma la volontà del popolo non è per sport non è per per essere contraria la scienza la volontà del popolo è per un altro motivo per la salute io mi occupo di salute l'acqua è a rischio l'acqua è tuttora a rischio che sia scarico e l'acqua si mangia lo sappiamo e quindi è una cosa gravissima in un ambiente parco nei fiumi non ci sono pesci non c'è più nulla perché il fiume è disastrato con quello che gli hanno dato a scarico e quindi quello lo sappiamo se guardiamo la bacinella vediamo cosa è successo quando si sono stati sversamenti noi abbiamo bevuto queste sostanze le abbiamo colorate ma abbiamo bevuto acqua con sostanze con i benzenici e quant'altro anche perché non sappiamo quante sostanze hanno non stiamo affrontando il discorso della reattività pura per le sorgenti le attive portate quindi non è che si viene a fare all'interno non beviamo l'acqua e risolviamo no l'acqua siamo costretti a berla perché è impossibile non berla impossibile non mangiarla il problema è che bisognerebbe prendere diciamo anche delle posizioni anche da parte di chi è responsabile che rappresenta proprio i cittadini no chiedere semplicemente chiedere però ad esempio mi viene in mente proprio stamattina un articolo del centro dove si legge che il 33,6% degli abruzzesi non si fida più della politica ad esempio insomma anche questo è un dato evidente di quanto fidarsi o non fidarsi la politica decide la politica decide quindi non è fidarsi o non fidarsi tutto il quadro che si presenta nella reazione proprio del di quanto possa essere preoccupante insomma comunque il quadro generale dei cittadini nei confronti delle diciamo dell'istituzione della politica e quindi è ovvio che una voce fuori dal coro magari raccoglie maggiore attenzione quindi credo che lei dottore sia gravato da una responsabilità importantissima cioè lei sta portando avanti una battaglia che diciamo lancia un allarme lancia delle sottolinea delle responsabilità e di conseguenza deve essere io busso io busso tutte le porte sappiate che io busso tutte le porte non mi fermo non sono compromesso non devo prendere incarichi non devo andare in commissioni non devo andare in tavoli tecnici perché non c'è nessun bisogno quello che bisogna quello che bisogna fare è chiudere il laboratorio perché non rispetta le norme e nello stesso tempo non è possibile la messa in sicurezza in un ambiente sismico non si può derogare alle leggi bene allora grazie buon lavoro sicuramente buona giornata buon lavoro per continuare insomma in questa battaglia io le auguro di avere diciamo dei confronti dei referenti che avvalorino oppure riescono a smontare insomma in entrambi i casi però un confronto concreto con quella che è la sua battaglia veramente grazie sia per dare per avere delle risposte in tutti e due i sensi insomma sia nella sicurezza che se non fosse così invece operare per la sicurezza insomma quindi sicuramente questo è molto importante arrivederci buona giornata buona giornata grazie grazie al dottoresso Castelli noi vi ringraziamo anche per per essere stati con noi anche questa mattina sabato mattina mercato tempo bello freddo ma bello per cui una bella passeggiata c'è tutta ci sono i saldi e come sempre alle 14 l'appuntamento con la prima edizione del nostro notiziario il primo piano quindi a più tardi buona mattina grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti